Oggi finiamo il gioco Cioè, finisco Registo l'ultimo episodio Fino all'ultimo episodio O almeno spero di riuscirci Adar Wong, aggetto speciale dell'FBI O almeno così ha sconosciuto e dici di chiamarsi Tiene a distanza l'Irono e lo guarda con sospetto Pur senza far trapelare su vere intenzioni Ma quando si getti in questo inferno Mostra davvero un piano ben chiaro E non mi lasciano come al solito finire di leggere la sintesi Ciao tutti ragazzi ragazzi Ciao gente per tutti in questo nuovissimo video Oggi siamo ritrati sul remake di Resident Evil 2 L'ultima volta ci siamo lasciati con Leo qui Con la vita gialla Ma soprattutto con il dovere accedere Alle fogne assieme ad Ada Che ovviamente ha aspettato che Leo Prendesse la tessera del parcheggio Per uscire E abbiamo visto Ci siamo lasciati con una simpatica bestiola Che abbiamo appunto Soltanto il travisto Piuttosto grossa Dunque Stiamo pronti Al peggio Oggi solamente due ore di tempo Per registrare E ho detto che Magari se riesco Finisco il gameplay E entro In queste due rette Però per farlo Se è possibile Secondo me Però devo Devo proprio L'ultima volta con Leo L'abbiamo volato Questa volta Dobbiamo volare E mettere pure il turbo Grazie per i proiettili Quanto a proposito C'ho una Ok una cura C'ho perfetto Di nuovo Non è tardi Per tirarsi indietro Scherzi Dovrai sopportarmi Fino alla fine Olè Come la vatia Si sta scaricando Uffa Così pare Si sta scaricando La batteria Aspetti Perché sei sceso Leon Dove Buonasera Corri 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 Un croccodino gigante Spostati Madonna Subito a destra Ok Corri Corri Pum E' da rivederci Alligatore del cazzo C'è E' da che parte vado Grazie Muoviti a salire Ti avevo avvisato Aveva detto che il virus Trasforma le persone in mostre Non i rettili Tusce Sono sorpresa Tu sia ancora in testa Si ci ha spiegato Nello scorso episodio Che sta cercando A net parking Perché Per appunto Sta cercando Il virus G Questo nuovo virus Potentissimo Che trasforma Tragetti mostri Che noi già conosciamo Non riesco a capire L'ombrella A chi vende mostri del genere Al nostro esercito Ad altri stati Non vende mostri Vendono i virus Che li creano E a net Li sa realizzare E quella donna E' molto più pericolosa Di quell'alligatore Sai chi altro Il più pericoloso Di quell'alligatore Io quando sono incazzata Ma non è vero Non è vero Lì ancora L'alligatore mi supera Commesso Vai salva E' sempre Devo sbarazzarmene Siamo qui per il virus G Puoi scordartelo L'ha aperto Dottoressa Ah si Ehi Ferma Non la vede mai Vero G Non sembra La tipica scienziata Leon Non pensi a me Lei vada La fermi Prima che scappi Non è il momento Di fare le ore Però Va bene Ancora una volta Anne Ti stava parlando Ad alta voce Stava pensando Ad alta voce Sono fuori Sono fuori dalla struttura Inseguo a net Se non ce l'ha lei Sarà nel nest Alla faccia Della gente Della FBI Ad accord design FMI FMI Certo Perché una Della FBI Si veste così Anche per la Veste da Corri quanto vuoi Ma non puoi Nasconderti Allora come funziona Ah è momento Di giocare Con Ada Questo è il corrispettivo Questo è il pezzo In cui giochiamo brevemente Quindi con l'altro Personaggio Che accompagna Il protagonista Per Claire C'è la Sherry Per 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 Lì non c'è Ada Rilevatore MF Usare il rilevatore Per individuare I cavi Prendere il controllo Della parichettura elettronica Tieni premuto L2 Premire E interagire Con R2 Perfetto Vai vediamo un po' Allora Devo trovare Ecco devo seguire Qui trovare Il generatore E attivare tutto Ok Poi se devo fare Mandare sovraccarico La ventola Pum Un gioco da ragazzi Ma non dirlo Che sicuramente Adesso riprendono Qualche zombie Sì perché Giustamente Annette Non è Sherry Annette Sì Scusatemi Ada spara Allora Allora Eccolo lì È so schillata L'ho fatto già due volte Sto pezzo Sì un anno fa Però va bene Io attivo già qui E c'è una zona Di là Però devo No è aperto No 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 guardi Proprio oggi Non c'ho voglia Di Ecco Di sparare Gli zombie Con Ada Poi Che c'ha poche munizioni Ecco grazie per le munizioni Vabbè stavolta Stavolta le sparo Ricambio il morso Dai che Ada Non si fa Dai che Ada È un agente a sangue freddo Non si fa Non si fa problemi A sparare Ecco Appunto Che cazzo è Allora Devo trovare Il generatore Perché tutto sto bordello Devo trovare Ecco Devo trovare il cavo Per attivare l'ascensore Ed andavere da sto posto Subicati Non vedi te Se con Ada Devo sporcare Le munizioni Ma forse di qua Devo passare di qua Ma penso che Ma sempre fregato Sto pezzo Devo sempre passare C'è un piccolo cieco Ma C'è Ma dai Mi faccio fregare Da sti piccoli ciechi Io che non guardo le mappe Non vedi te Andiamo Non vedi te Mi faccio fregare Un po' Morta Sì, questo è morto Sicuro Perfetto Arrivederci 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 È stato un piacere Conosso il Vicky Se frega Se non trovo tutto qua Tanto Non è un problema Se non trovo tutto qui Tanto In questo pezzo Non ci torneremo più Questo Eccolo E vabbè Sempre la migliore A salvare Mettete Quello Che devo trovare Velocemente Oh no Oh no Di nuovo lui Ah la faccia Il camion in faccia Ne ha fatto una merda Di niente Altro che Vedi Vedi te Se Oh no Per questo non ho tempo Altro che A questo mica Sparo Aia che botta Vaffanculo Cosa sta facendo Cosa si è fermato Un attimo Oh 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 Aspetta 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 Ok Esploda Esploda Posto E vabbè Ti pugna le casse Vaffanculo Ancora un coppia Sono morta Ma va bene Oh salvataggio Grazie All'ultimo Mi sono salvata Allora Ispezione Settembre Seconda settimana Grazie al nuovo braccioletto Finalmente possiamo ispezionare L'area di demolizione Secondo il rapporto Dell'altro giorno Sul riceneritore Non è niente di che Probabilmente Solo un mucchio Di rifiuti Terminato Questo rapporto Da dannocchiata Io stesso Scusate Mi spiace Mi spiace D'avete ridotto La vita All'agrosso Però S'è continuata Da un imbecille Che quando Viene presa Da un imbecille A posto Un apposto Che imbecille Che quando È presa Dalla generalina Non riesce a sparare Quindi Dove Scusi Allora Aspettate Devo dare un attimo Un'occhiata rapida Qui Vedete questi Segnateveli Perché adesso Devo Ok Devo Dovevo dargli Un'occhiata veloce Non so capirete Grazie a me Ecco Guardali L'infame Ecco Allora Devi trovare Qui velocemente Eccolo Vai Uno Col cazzo Che mi è bruciata qua dentro Dopo che sono stata Morsa Dopo che sono stata Morsa Dopo che Mi hanno presa pugni Due volte Ma Cavolo Che Mi bruciate Viva così Oh 15 minuti Grazie Siamo fortunati Siamo fortunati Ancora In settembre Allora Restituirlo Entro questa data Non credo proprio Dove sei Dove sei Io questo posto Lo conosco Basta Giocare a nascondire E va bene Cambiamo gioco Dimmi Tuo marito È ancora vivo O l'hai ucciso Per prenderti Il merito Del giro Teoria Interessante Se non Collabro Otterrò Un campione Dal nest Non finché Saro Fino Il merito Oh, questo ha fatto male! Dov'è lì? Quando serve? Ah, che male! Eh, quel verso non mi è piaciuto, questo verso non mi è piaciuto. Ah, dai! Ah, dai! Ah, diavolo! Ah, sai che male più gli attività? Trovata! Certo! Allora, dove si va? Beh, di qua non posso andare! Ada! Dov'è andata? Forse è per di qui? Sì, è per... No, non è per di qua. No, no, è per di qua, è per di qua, scusatemi. Allora, devo ritrovarmi un attimo qui, con i proiettili, come sto messa... Approssimativamente male, considerando che adesso nelle fogne meteo avrò tutti i G sotto sviluppati. No, aspetta un'altra che cercare di mangiarmi, tanto per cambiare, no? Perché di gente che mi vuole mangiare non l'ho ancora incontrata, mi servirà proprio la gente che mi voleva mangiare, volesse mangiare. Giù! È il momento di esplorare le fogne! È mia gioia! Evviva! Allora... Ok, qua posso tutto, perfetto. Devo vedere... Mmm, bello odore di merda! Visto l'uovo marcio, topi morti, sangue, un po' di plastica... Mmm, sì, proprio un bel cocktail di odori, di proprio... Ho sentito chi è? Allora, qui... C'è l'accesso... Ho sentito qualcosa, credo io, eh? Cioè, o è l'acqua... Però se è l'acqua che si muove e l'acqua che si muove non sono io a muoverla... Quello effettivamente potrebbe essere qualcosa. Io sto per fucire la pompa, però per fucire la pompa un colpo non basta... Per ammazzare quei cosi. E poi quei cosi lì, per appunto i G sottosviluppati, è meglio non... Ok, questa zona la riconosco. Quella dove avevamo visto la videocassetta, la prima videocassetta... Eccola qua, la videocassetta. Dai, già, dai! Diciamo che se lo facevo esplodere... Bene, i proiettili normalissimi stanno per finire. Evviva. Allora, qui c'era il pieno di zombie. Qui c'era il pieno di zombie, ricordo. Oltre a quello lì ce ne hanno anche altri. Qui c'era la stanza che col passaggio segreto ti portava... Ti riportava alla centrale. Allora, là ce n'è uno. Ma sentite, vi faccio un favore. Le! Va a cagare. Qui c'abbiamo la torre. Però prima di prendere la torre, che è lo spinotto che attiva il ponte... Andiamo qua sotto a vedere se posso già prendere qualcosa. Oh! Un coltello, grazie. Canale inferiore... Praticamente sì, è qui. Ok, è già finita la roba da prendere, perché poi da lì... Da quella cascattina lì... Ritorniamo dove eravamo prima, quindi. Raga, sento questo primo episodio... No, no, con tutta una domanda, domanda rapida. Io ti ho lasciato... Ti ho lasciato vicino al cadavere dell'U.S.S. morto. Come hai fatto ad arrivare qui nel giro di 5 secondi? Che quando ti ho lasciato eri in piedi? Ok, adesso devo ricordare che da questa parte ci ritorneremo solo... Per quando avremo la... La chiave del... È morto. Sì, è morto. Quando avremo la chiave del... Per l'ufficio. Permesso... Non lo posso andare di qua. Andate a quel paese. Andate a quel paese. C'era, c'era. Dovete andare? Se di qua la porta è chiusa, no? Dove cazzo devo andare? Di qua non posso andare perché... Anche qua la porta è chiusa. Questa è chiusa. Vedete che è chiusa? Dove vado? Qua giù c'è tutto chiuso. Eh. Magari, aspettate, magari... Forse non ho guardato bene, ma magari da questa... Niente. Allora, la torre deve aspettare. Probabilmente qui posso andare da un'altra parte. Oh, meno male che le foglie dovevi conoscere, cavolo. Allora, passiamo per di qua. Noi andiamo di sotto perché è di sotto. Allora. Allora, forse posso andare di qua. No, non c'è niente di qua. Allora dove cazzo vado? Allora, aspetta. Forse qua giù è un'altra zona ancora. Allora, aspettate. Olè! Sì, è un'altra zona ancora. Ok. Ah! Merda! Proprio merda! Esa, proprio, proprio merda. Ma non merda nel senso di merda. Proprio merda. Oh, no! No, sti suoni no, per favore, no. No, per favore, questi muggiti, no. I muggiti, no. Guarda, è là. È là lo stronzo. Lo vedete? No, non si vedo inca. Putta merda. Beh, eccolo. Ciao! Ecco fatto. Eh, dovevo, dovevo sparargli per far sì che... Eh, cosa cazzo? Eh, cosa cazzo? Eh... È un mostro. Non ti sei ancora abituato a vedere i mostri? Allora, aspetta. È vero, effettivamente è quello che abbiamo... È una funicolare. Interessante. Sì, è proprio interessante. Effettivamente, i vostri veri dei non li ancora visti, perché c'è quello dell'altra volta, è un mezzo uomo, un mezzo mostro. Quindi non è ancora... Se discorre il suo piccolo... Ragazzi, no, queste sono le puntate in cui... Grazie. Grazie, Gioco, per esserti messo in pausa da solo. Allora... Ok, la lucina gialla si è accesa, quindi si sta... Si sta caricando. No, non si sta scaricando. Ok, se cos'è? La PS4 è per tutto, va più. C'è una batteria. Al contrario. No, casomai, gliela dà. Allora... Qui ho lasciato tutto rosso. Va bene, è lo stesso. Qui c'è la più di zombie belli, no? Ma zombie belli che con l'io non esistono. Beh, è una cosa positiva. Copia della e-mail a QG Umbrella. Ah, c'è... Ah, c'è Alion che diceva dove è andata. Direttore dell'io non è stato scattato in tutto il nesto. Ok, però... Ecco, c'è Alion che diceva dove è andata. Questo è SZF, giusto? Così ci oleviamo immediatamente dalle scatole. Le proiettili della ragno. Mai dire ma... Chi dice di no? Proiettili di fucile a pompa. Chi dice di no? E qui comunque ci dovrò... Comunque qua ci dovrò tornare perché devo prendere un po' di robe. Allora, secondo me alcune robe... Allora, qui non c'è niente. Qui secondo me c'è qualcosa qua, secondo me. Andiamo a prendere qui. No, raga, 27 minuti. Ho già fatto il coccodrillo. L'alligatore che comunque ha un pezzo di 3 minuti. Neanche. Ada, il pezzo di Ada. Sono già arrivata a salvataggio delle fogne. Ora ci vediamo la videocassetta. Per la seconda volta. Sì, però... Ah, questo suono lo conosco io. Ada. Arriviamo, Ada. Arriviamo, Ada, prima che... Arriviamo prima che arrivi William, preferibilmente. Volantini, per questa fognatura. Salute alla Presidente. Ah, se questa roba degli schiacchi. Allora, qui l'Ingma, già ve lo dico, è cambiato. Non è più un... Se non ricordo male, l'attore stava... Vabbè. L'attore è di fianco al cavallo, ma non di fronte alla regina. Il re non è di fianco alla regina, ma di fronte al cavallo in fondo. Il cavallo non è dove dovrebbe essere. Chichiavo, no? Tipo il cavallo dovrebbe stare qua, e invece non ci deve stare qua, capito? Che trip. Allora, DAK, ci svuotiamo già un pezzo dell'inventario guardandoci la videocassetta. Per la seconda volta, perché è la stessa che abbiamo visto con Claire. Però sentiamo cosa dice Leon dopo la bella vista. Ti prego, basta. Fermo, ti prego. Ti prego. Eccolo. No, no, no. Da questa parte se ne è fata. Non fargli male. Ma cos'è un coppo? Ma cos'è da fare questo? Un coppo di carte secco. Gli ha fatto così ed è morto. Il virus. L'avranno diffuso i ratti. Ecco, infatti. Allora. Via questo. Scarta. Via questa, perché ce ne ho già una. Di controattacchi è... Per i controattacchi c'ho la granata. Poi qui c'ho... L per i t. Allora, consideriamo che l'ultima zona che andremo a vedere sarà il canale inferiore secondario. Dove là ci sono gli ultimi due spinotti. È l'ultima zona che andremo a vedere. Quindi con quella chiuderemo l'esplorazione delle fogne. Passeremo al boss a secondi di contro con William. Anzi, con il G. Dopodiché... Dopodiché, dopodiché cosa? Dopodiché si passerà all'ultimo livello che sono elaborata la gambella. È là. Se sono super rapida, in un episodio soltanto lo finisco. Poi dopo vi riservo i quattro episodi che registro oggi al boss finale. Ma un momento ragazzi, direi che il video si possa concludere qui. La prossima volta. Cioè, alle 5 di oggi provvederemo ad esplorare le fogne con tutto questo assenale di roba appresso. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link, la pericolo completa su questo gioco caso ormai vi foste persi qualcosa. e il link al mio profilo Instagram dove posto qualcosa di tanto. Infine vi ricordo che ogni tanto posto pure qualcosa sulla community, sul canale YouTube con la stessa frequenza delle robe su Instagram. Anzi, forse più frequentemente. Però lì dovete andare a controllare voi perché non arriva le notifiche. Purtroppo. Detto questo, noi ci rivediamo la prossima! Grazie a tutti!